North Star Metric, che cosa vuol dire, cosa significa, come possiamo utilizzarla per migliorare il modo in cui operiamo la nostra startup. Forse qualcuno in Italia è stato abbastanza temerario da tradurla in metrica stella polare, però ecco questa traduzione orribile ci può comunque dare un'idea di quello di cui stiamo parlando, cioè una metrica per l'appunto, che utilizziamo come linea guida mentre stiamo conducendo la nostra azienda. Quindi un numero che possiamo identificare come veramente l'indicatore principale della salute dell'azienda, verso cui possiamo rivolgere le nostre attenzioni, sia per capire se stiamo andando bene o se stiamo andando male. Quindi ci allontaniamo dal target, ci allontaniamo da quello che facevamo l'anno scorso, oppure non cresciamo quanto crescevamo l'anno scorso secondo questa metrica, c'è un problema. E nell'altro modo di usarla anche il dire a un team, per esempio il team di crescita, quello che tipicamente usa di più questa metrica, lavora per aumentare questo numero qui. È un concetto così innovativo, così importante? Sicuramente no, il concetto di metrica esiste da penso centinaia di anni, probabilmente, ma il contesto in cui nasce questa metrica, in cui viene usata, è abbastanza interessante. Infatti questa è una metrica che è diventata popolare nel contesto delle start-up, nel contesto dei team di growth, quindi di crescita, e che si piazza in particolare in ambienti di sperimentazione ad alta velocità. Che cosa vuol dire? Vuol dire appunto growth team che continuano a fare esperimenti sul prodotto, sui canali di acquisizione, su base magari anche settimanale, e che cercano di raggiungere in maniera più veloce possibile determinati obiettivi, che cercano di apprendere velocemente cosa funziona, cosa non funziona. E avere questa metrica principale aiuta a capire quali esperimenti hanno successo, quali no, ma anche a scegliere quali esperimenti dare effettivamente la priorità. Un'altra cosa molto molto importante. Quindi come scegliere bene la nostra North Star Metric? Come assicurarci che sia effettivamente utile? Ci sono un paio di indizi, un paio di esempi anche che vi posso fare per aiutarvi in questa scelta. Tendenzialmente una metrica di questo tipo deve essere quello che viene chiamato un leading indicator di revenue future. Che cosa vuol dire leading indicator? Se siete curiosi potete iscrivervi al canale di Rapido, un canale in inglese in cui parlo a founder di startup, persone che lavorano nel mondo delle startup e sto intervistando anche tantissime persone che sono specialiste in diversi ambiti. E un episodio che uscirà presto è con João Mimoso, che lavora in product analytics per TripAdvisor e ci parla proprio della differenza tra leading indicator, lagging indicator, però quello che vi interessa sapere ad oggi è fondamentalmente un numero a cui possiamo guardare per predire future performance. Quindi in teoria guardando la nostra metrica North Star dovremmo essere in grado di capire se le revenue sono aumentate o comunque aumenteranno, per esempio, no? In base all'evoluzione di quel numero lì, per semplificarla al massimo. Dall'altro punto di vista dovrebbe essere un qualcosa che dimostra anche valore per il nostro utente finale. Chiaramente ci sono sempre eccezioni a queste cose, no? Quindi tornando all'esempio di prima, revenue growth magari non si applicava ad Instagram quando è nato perché Instagram quando è nato non cercava di monetizzare, cercava di aumentare sempre di più il numero di utenti. Quindi magari in quel caso loro si sono concentrati sull'identificare una metrica che mostrasse semplicemente valore per l'utente. Un'altra cosa importante, specie se andiamo a selezionare una metrica per tutta l'azienda, quindi non solo per un team, è cercare di trovare un qualcosa che sia veramente trasversale all'interno del nostro funnel, quindi che non si concentri solo sulla parte di acquisizione, per esempio, che è un errore che molti fanno. L'esempio che si fa più spesso è quello di RBB, quindi immaginiamo un Airbnb che è stato lanciato da poco, magari dieci anni fa, cerca di entrare nel mercato, di scalare sempre di più. Certo, avrebbero potuto selezionare revenue come metrica principale, però guardare solamente alle revenue avrebbe lasciato da parte tutta una serie di altri fattori. Avrebbero potuto guardare al numero di appartamenti disponibili, però questo avrebbe lasciato da parte tutte quante le informazioni su quanti utenti effettivamente arrivano sulla piattaforma, quanti prenotano, eccetera, eccetera. Quindi una metrica che ha senso per loro è quella del numero di notti prenotate sulla piattaforma. Questo perché? Perché taglia, come dicevamo prima, in maniera trasversale il funnel. Per avere il numero più alto possibile di notte prenotate, dobbiamo avere un'ottima qualità e quantità di accommodation sul sito, di posti da poter prenotare, ma dobbiamo avere anche il numero maggiore possibile di utenti e un numero di utenti che acquisti, che prenoti e che idealmente prenoti anche per tante notti. Quindi, come vedete, una buona North Star Metric prende in considerazione tantissimi aspetti diversi del funnel e allo stesso tempo ci dà un'indicazione del valore per gli utenti, è una leading indicator per revenue growth, quindi ci fa capire che in futuro più prenotazioni, più notte prenotate abbiamo, più revenue dovremmo avere, e può essere utilizzata da tutta l'azienda come linea guida principale. Quindi è veramente, immaginate, voi presentate la slide nel All Hands della vostra azienda in cui tutti quanti si incontrano, in cui parlate delle novità, la prima slide può essere 500.000 notti prenotate. Per esempio, anche la prima startup dove ho lavorato con i Places aveva una metrica molto simile. Era un accommodation a medio termine in questo caso, quindi c'erano delle modifiche, ma l'idea era sempre la stessa. Nel caso di Netflix potremmo dire che sicuramente revenue sono importanti, ma una metrica paragonabile alle notti prenotate potrebbe essere il watch time, quindi quanto tempo, quante ore vengono spese da tutti gli utenti della piattaforma sopra Netflix. Lì si aprirebbe anche un discorso sul costo di mantenimento delle ore viste, quindi magari ad oggi Netflix è quasi preoccupata dalle persone che spendono troppo tempo sulla loro piattaforma, preferirebbero avere più iscritti e meno utilizzo. Però il watch time, specie in un periodo di espansione del business, era una buona indicazione di retention, perché più guardi Netflix magari meno è probabile che tu poi smetta di pagarlo, di nuovi utenti, perché più utenti ci sono più questo watch time totale può crescere, ed è anche un'indicazione per referral, perché facciamo finta che io guardi 5 ore al giorno di Netflix, potrei andare dai miei amici, ammesso che abbia amici visto che guardo 5 ore al giorno di Netflix, però potrei andare da loro e consigliargli i vari show che sto guardando, quindi più li guardo più è probabile che magari ne parli con qualcuno, appunto referral. Ovviamente questa metrica non è una risposta universale a tutto quanto, guardando solamente a questo numero possiamo dimenticarci di aspetti molto importanti o magari questo numero continua a salire molto velocemente e guardando solo quello non ci rendiamo conto di problemi più alla base del nostro business che potrebbero diventare problemi strutturali in futuro. Funziona come guida, come faro per indicarci se le cose stanno andando barra andranno bene, ma ovviamente poi queste metriche possono essere suddivise in sottometriche, sottometriche che possono essere usate per capire quali parti del business stanno andando meglio, quali peggio, quindi nel caso di Airbnb magari andiamo a vedere ok quanti notti sono state prenotate in totale, però poi andiamo a vedere quanti notti per utente, quante accomodazioni diverse sono state prenotate, qual è la percentuale di accomodazioni sulla piattaforma che vengono prenotate, eccetera eccetera. E queste metriche qui servono un po' da check per assicurarci che non ci siano alcuni coli di bottiglia all'interno del nostro funnel per capire dove sono le più grandi opportunità e la cosa interessante è che usiamo la North Star Metric come linea guida per tutta l'azienda, ma nulla ci impedisce di prendere poi le componenti di questa North Star Metric ed assegnarle ad una persona specifica o ad un team specifico. Una cosa che succede molto spesso con l'espansione dell'azienda per esempio è la creazione di vari team di crescita o team di prodotto a cui poi vengono assegnate alcuni delle singole componenti di questa North Star Metric. Quindi per esempio un team di growth che si concentra sull'acquisition per Netflix sicuramente guarderà al watch time in generale, però poi il CEO o chiunque sia il loro capo li valuterà sulla base di quanti nuovi utenti mi hai portato. Ovviamente continuiamo a guardare tutto il funnel, però possiamo segmentare questa metrica per cercare miglioramenti, risultati, soluzioni in un punto specifico. Quindi ci aiuta anche a trovare quali sono questi punti più specifici in realtà. Io spero che questo video sia stato utile a chi di voi magari ha incontrato questo termine su un blog, gliene ha parlato un investitore, voi avete fatto finta di capire cosa intendesse. Adesso spero che effettivamente abbiate capito che cos'è una North Star Metric, che cosa vuol dire, in quali contesti può e vuole essere usata. Vi ricordo che molti più video come questo vengono caricati sul canale YouTube di Rapido. Rapido è un acceleratore open source, raccolgo e creo risorse per startup, per founder in maniera gratuita. Avete accesso, appunto c'è il canale YouTube a cui potete iscrivervi. C'è una versione più professionale di questo video, ma ci sono anche tantissimi altri video, come citavo anche prima, ci sono dei podcast con tantissimi professionisti super interessanti. Quindi vi consiglio di andarvi ad iscrivere e se andate sul sito rapido.fyye, quindi for your information, potete registrarvi anche come startup. Nel momento in cui verrete accettati avrete accesso a tutta una serie di sconti per startup come voi, avrete accesso a una sezione community, insomma stiamo lavorando e lanciando tantissime cose. Io spero che vi piaccia e che sia utile. Al momento è gratis, potrebbe diventare a pagamento un giorno. Stiamo cercando di capire come renderlo il più sostenibile possibile sia per noi che per voi. Vi ringrazio ancora per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!